Benvenute e benvenuti, questo è Come Butta, l'approfondimento quotidiano con le notizie di Cronache Maceratesi. Oggi è martedì 8 agosto, io sono Laura Boccanera, con me c'è Marco Cencioni. Andiamo allora a vedere Come Butta. E proseguiamo con la cronaca a Civitanova, minacce e botte alla compagna, 21enne ai domiciliari. Per il ragazzo il giudice ha disposto anche il braccialetto elettronico, la misura cautelare eseguita dalla polizia. Controlli a tappeto nel weekend, fermate 222 auto, identificate 430 persone. Task force in vista di ferragosto, quindi controlli in tutta la città costiera e sul litorale della polizia previsti per il fine settimana e per il ferragosto. Due attacchi in dieci giorni, Cavalla e Vitello sbramati dai lupi in 5 anni, morti oltre 1800 animali. E' l'allarme lanciato da Coldiretti Macerata dopo quanto successo ad Appignano, a due passi dalle case dal centro abitato in contrada Carreggiano. Nonostante la recinzione elettrificata, i predatori si sono fatti in strada scavando sotto l'ostacolo. L'associazione sottolinea, se non si interviene, il rischio è quello della perdita di reddito e del conseguente spopolamento delle aree interne della montagna. Ora siamo a Civitanova per una notizia di cronaca. Ricorderete l'episodio avvenuto sabato scorso dove un uomo di 42 anni, tunisino, è stato arrestato sul lungomare nord per essersi masturbato davanti a due ragazzine e aver cercato di adescarle offrendo loro del denaro in cambio di una prestazione sessuale. Ebbene, ieri lo stesso uomo ha rischiato il linciaggio, l'intervento della polizia nel tardo pomeriggio attorno alle 18 all'altezza del sottopasso Cecchetti. È successo che i familiari delle due ragazzine in auto hanno notato e visto il 42enne che percorreva a piedi il sottopasso e hanno cercato di rincorrerlo. L'uomo è riuscito a scappare, si è nascosto in un negozio dove c'era un agente di polizia che ha evitato il peggio e impedito ai familiari delle due ragazzine di entrare e di aggredirlo. Dopo la convalida, il giudice ha disposto per l'uomo l'obbligo di firma e è accusato di atti osceni, corruzioni di minorenni ed escamento ai fini della prostituzione minorile. Controlli dei carabinieri, sanzionati due buttafuori, rissa in discoteca, 5 d'aspo. Denunciato per evasione un residente dell'hotel house che era ai domiciliari e ritirate quattro patenti. È il bilancio dell'attività dell'arma dei carabinieri che si è concentrata anche sui locali della movida civitanovese. Multe da 1600 euro a due addetti alla sicurezza perché non iscritti all'albo. E siamo a Civitanova ancora per parlare di commercio. Ad è stato infatti sconcerto e incredulità il messaggio comparso sulla pagina social della celebre pizzeria Saurdò, il locale di piazza 20 Settembre pluripremiato e che compariva anche sulle guide del Gambero Rosso. La pizzeria infatti ha annunciato che dal 20 agosto rimarrà chiusa. La decisione del titolare Leonardo Grillo è legata ad aspetti economici e ai rincari di materie prime d'elettricità. Ci sembra inevitabile fermarci per rifiatare e capire che direzione sta prendendo il nostro settore e come poter affrontare tutto senza tradire la nostra filosofia. Ha scritto sulla pagina Facebook Leonardo Grillo. Allagamenti a Porto Recanati, danni a garage e abitazioni via Garibaldi, un fiume pericoloso. Fino a 20 centimetri di pioggia raccolta lungo la strada a causa delle precipitazioni che hanno colpito la costa nel weekend con disagi per residenti e turisti. Uno di loro, Sandro Gallucci, dichiara la metà d'acqua che è caduta in Emilia qualche mese fa qui ci annegherebbe come topi. Lo sfogo di questo residente è raccolto nel nostro articolo su cronicaimaceratesi.it firmato da Laura Boccanera. E siamo adesso a Macerata, parliamo di politica perché è bagarre sui fondi del PNRR tagliati. Nel pezzo Luca Patrassi ci dà il punto di vista dell'opposizione. Infatti, mentre gli amministratori comunali sono preoccupati, visto che per ora hanno solo generiche promesse di altri finanziamenti, la minoranza attacca. L'esponente Dem del Gobbo dice che non tutti i mali vengono per nuocere, mentre il consigliere di strada comune e potere al popolo afferma ora aspettiamo di vedere come finirà questa vicenda in cui la tanto decantata filiera della destra italiana, marchigiana e maceratese esce con le ossa rotte. E chiudiamo con lo sport. Cocciaretto, nominata da Tajani, ambasciatrice della diplomazia dello sport. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato alla giovane tennista fermana, accompagnata dalla mamma, la consigliera regionale Jessica Marcozzi, questa mattina alla Farnesina, direttamente dal vicepremiere e ministro degli esseri che ha voluto premiare la giovane azzurra entrata nella top 30 della classifica mondiale del tennis dopo la vittoria ottenuta lo scorso 30 luglio nel torneo VTA 250 di Losanna. Da Marco Cencioni e Laura Boccanera è tutto, vi aspettiamo domani dopo le 18 a Come Butta, l'appuntamento quotidiano con la redazione di cronachemaceratesi.it Se volete ricevere ogni sera Come Butta via Whatsapp aggiungete ai vostri contatti il numero 331-330-7773 che trovate anche sulle nostre pagine e inviate un messaggio per registrarvi al servizio che vi ricordiamo è gratuito. Buona serata! Buona serata!